La storia si ripete, il Campobasso pareggia 3-3 contro il Pineto dopo essere stato avanti di due reti. La tensione è crollata ed il lupo si è fatto riprendere dagli abruzzesi che hanno meritato di uscire indenni da Selva Piana. Si gioca di fronte ad una spettacolare cornice di pubblico, più di 2000 gli spettatori. Il pubblico delle occasioni più importanti dirige il signor Castellone di Napoli. L'approccio molle del Campobasso che va sotto dopo 5 minuti a quadro, mette al centro dove Menna cicca la palla. Ne può approfittare Tomassini che realizza il vantaggio ospite da pochi passi. Il Campobasso va sotto ed è una notizia, non succedeva da 14 giornate. Campobasso chiede due calci di rigore nel volgere di pochi minuti. Il primo episodio incriminato risale al diciassettesimo quando Alessandro è affrontato da Pepe per il signor Castellone. E' tutto regolare, stessa decisione arbitrale soltanto un minuto dopo quando Cogliati viene steso appena in area da Bianciardi. Si può giocare. I rosso-blu sono in partita, il Pineto è molto ben schierato da Amaolo. La reazione casalinga c'è ma forse manca in concretezza. Al 22esimo Alessandro se ne va a sinistra e mette al centro dove Cogliati alza il pallone del possibile 1-1. Ancora occasione al 32esimo, Brenci decide di calciare, Shiba non blocca, riprende Cogliati che va verso la porta trovando la deviazione provvidenziale di Pepe. Il Campobasso mette alle corde l'avversario e trova i frutti meritati al 34esimo quando sugli sviluppi di un angolo la palla rimane in bilico e viene calciata con potenza da Candeloro. Rintercetta il braccio di Speranza, si levano le forti proteste di Selvapiana, l'arbitro segnala il calcio di rigore. Dal dischetto Alessandro segna con grande precisione. È 1-1 a Selvapiana, il lupo non è mai sazio e devono trascorrere solo 60 secondi per un'altra occasione condotta da Alessandro. Cogliati gira, riprende Zammarchi che manda fuori di poco. Finisce in parità il parziale dopo un solo minuto di recupero. Immagini di Alberto Pietronti, siamo nella ripresa. Campobasso brioso dal primo minuto, Cudini poi decide di far entrare dal sesto Sanseverino in luogo di Candelori. All'ottavo i rosso-blu riescono a ribaltare il fronte. Tutto parte da un taglio di Alessandro colpito di testa da Pierpaoli. La palla è preda di Cogliati che se ne va sul fondo e mette al centro un pallone molto ghiotto per Zammarchi che gira in rete il suo quarto gol stagionale. Selva Piana esplode di gioia ma la felicità non si stoppa qui. I rosso-blu tengono il Pineto nella sua metà campo e all'undicesimo triplicano le reti. Orchestrano prima Zammarchi, poi Cogliati che vede uno spazio interessante per Alessandro che manda il pallone dove Sciba davvero non può nulla. Un gol spettacolare della punta di Cudini. Campobasso 3, Pineto 1. Devastante l'inizio di ripresa dei Campobassani. Amaolo prova a correre ai ripari con gli ingressi di Jonathan Alessandro, Marini e D'Angelo. In luogo di Della Quercia, Festa e Camplone. Al ventiduesimo Sciba fa buona guardia su Cogliati scatenato dalla linea di fondo. Il Pineto non può solo subire al ventottesimo Abruzzesi in rete, angolo di a quadro. Quest'accordo avvicinato di Pepe, un po' troppo facile la marcatura del capitano Abruzzese e il Pineto riapre la contesa ad un quarto d'ora dalla fine. Cudini cambia dal ventottesimo dentro Musetti al posto di Cogliati. L'imponderabile si ripete a Selvapiana così come è accaduto contro l'Avezzano. Al trentanovesimo pallone scodelato dalla destra da Pierpaoli e Fabriani che insacca nel tentativo di anticipare Tomassini del Pineto. Sulla linea di porta, ma probabilmente quando il pallone ha già superato la linea fatidica, c'è il pallone che viene spinto in rete da Alessandro. Ma probabilmente alla resa dei conti si tratta di autorete di Fabriani. È il 3-3 di Selvapiana, ma è incredibile come il Pineto sia stato in grado di pareggiare senza premere troppo il piede. Sull'acceleratore il Campobasso dimostra di non avere la benzina giusta per trovare un nuovo vantaggio. Vengono dati 5 minuti di recupero al 92esimo il cross di Van Zanne fuori misura, mentre al 94esimo l'ultimissima possibilità è sul destro di Alessandro, capace di procurarsi una punizione interessante, deviata però fuori dalla barriera. Finisce con un pareggio per certi versi incredibile. A fine gara soddisfazione da parte di Amaolo, dispiacere per Cudini, a detta del quale il campionato è ancora molto lungo.